e veniamo adesso a parlarvi di Jessica Selassie e Baru o Gerardo Barulino infatti nelle settimane scorse lo stesso Baru era stato ospite da Silvia Tofanin aveva parlato bene di Jessica ma insomma aveva fatto capire chiaramente che non c'era nulla oltre il rispetto che lo stesso aveva nei suoi confronti dichiarazioni molto soft lo ricordiamo ma che in un qualche modo tracciano un solco una strada che fa chiaramente capire che purtroppo per Jessica lui non sembra avere sentimenti amorosi nei suoi confronti ovviamente dichiarazioni di Baru che sono chiaramente arrivate a Jessica Selassie e ovviamente non le hanno fatto piacere e hanno suscitato la sua reazione. Gif Vip Jessica Selassie smette di seguire Baru su Instagram. Jessica Selassie dice la stessa vincitrice del grande fratello Vip. Gli ho tolto il segui tutto qua non mi va di creare cose perché non c'è la necessità e chiede di smettere sempre di parlare di Baru e continua la stessa principessa etiope precisando. In questo momento le acque non stanno scorrendo. Io voglio bene a Baru e so che lui me ne vuole solo che il momento è un po' così. Personalmente non so a voi ma a me queste dichiarazioni fanno capire unicamente una cosa che Jessica per Baru sta veramente sotto treni Italia. Onestamente sulla buona fede di lei nei confronti del foodblogger io non ho mai avuto dubbi alcuni. Ed è ovvio che questo la avvicina molto al prossimo trono di settembre di Uomini e Dan.